Questo speaker portatile bluetooth è davvero forte e non mi riferisco alla qualità dell'audio ma mi riferisco al fatto che è anche un powerbank, JBL Charge 5. Dopo la sigla ti parlo delle caratteristiche tecniche, nel frattempo se ancora non sei iscritto al canale non dimenticare di farlo. Bello il design è anche semplice da utilizzare. Nella parte superiore abbiamo i vari pulsanti, quello di accensione power e quello bluetooth che si illuminano quando li accendi. Poi abbiamo gli altri pulsanti, quelli del volume e quello che permette di mandare avanti o cambiare canzone. Dotato della certificazione IP67, questo significa che è resistente all'acqua e alla polvere e questo è sicuramente un valore aggiunto soprattutto per chi ha intenzione di portarsene in giro, come ad esempio in spiaggia. Inoltre anche un comodo powerbank, premendo il pulsante sopra si illumina l'indicatore della batteria che ci mostra lo stato della carica. Infatti lateralmente troviamo una linguetta impermeabile e dietro si trova una porta USB tipo A che ci permette di ricaricare lo smartphone. Inoltre è presente anche un USB tipo C che permette di ricaricare il JBL Charge 5. Ci vogliono 4 ore circa per ricaricarlo e offre fino a 20 ore di riproduzione musicale senza fili, dal dispositivo ovviamente dotati di bluetooth. Per associarlo allo smartphone basta semplicemente scaricare l'app JBL che trovate sul Play Store. Una volta scaricato attivate il bluetooth del vostro smartphone e il bluetooth dello speaker. Ed ecco l'app. Da qui è possibile personalizzare varie funzionalità, anche se sinceramente mi aspettavo qualche funzione in più. E' possibile aggiornare anche il firmware del nostro speaker bluetooth. Infatti è disponibile già un aggiornamento, lo faccio subito. Supergiù impiegherà un paio di minuti. Aggiornamento completato. Provo a farvi ascoltare qualcosa anche se sinceramente dal video è molto difficile. Comunque ci provo. Non so se avete sentito la qualità, ma vi garantisco che la qualità audio è davvero eccezionale. Per chi è interessato sotto al video trovate il link per acquistarlo su Amazon al miglior prezzo. Se avete apprezzato questo video non dimenticate di lasciare un bel pollice in su e se ancora non siete iscritti al canale fatelo perché è gratis e inoltre mi aiuterete a crescere. Ci vediamo al prossimo video su YouTube. Ciao a tutti.